Proviamo a vedere se si riesce a captare le immagini delle due torri. Quella in pietra ora è scoperta e davanti c'è una nave che copre il faro. Quella è quella in pietra. Ecco l'altra, da poco la vediamo. Eccola, è scoperta allora. E' ferma, si vede soltanto la torre quella in pietra e dietro appena appena c'è, sembra che si ha su quel traghetto, ma non lo è, è distante, stop. Ciao. Ciao.